...dello show di Larry King perché io avevo programmato un'intervista con Buzz Aldrin nel 1999 e noi lo retingemmo con una truppa televisiva nel sud della Francia e volevamo dire fuori proprio questa storia dopo sette anni di silenzio e di tentativi quella del falso annunaggio so I borrowed 10.000 dollari ho portato con me 10.000 dollari got a camera crew together based on the fact that I was going to get the interview with Buzz Aldrin sperando appunto che questo avrebbe potuto finanziare fino all'intervista di Buzz Aldrin flew to the south of France abbiamo volato nel sud della Francia waited for approximately 5 days where he kept putting the interview off every day he kept putting the interview off e lui ogni giorno posponeva, posponeva, posponeva a quinto giorno i soldi stavano finendo e a Monte Carlo ci siamo incontrati nell'hotel e la prima cosa che lui mi ha detto quando ci siamo incontrati nella lobby è che era Paul Allen, un miliardario prima, investito in mani? e la prima cosa che mi ha detto quando ci siamo incontrati nella lobby è che era Paul Allen un miliardario prima investito in mani? e il progetto SETI e lo avevano etichettato come il passoide degli UFO e lui non voleva cascare in questo tipo di tranello e in realtà poi tutto questo non avrebbe portato nessun contributo al reale studio dell'ufologia e questo a me personalmente è molto dispiaciuto e questo a me personalmente è molto dispiaciuto e io credevo gli dissi che ritenevo che gente della sua levatura avrebbe contribuito enormemente a portare più in alto il livello dello studio degli UFO e quindi tornai a casa a mani vuote e invece guardando un po' il caso sette anni dopo ho scoperto che saremmo stati a Larry King insieme and I was going to confront him on live television, not national television, but I was consulted in the green room of Larry King Allora, nella stanza d'attesa io ho cominciato a parlare con gli ospiti e era previsto che ci fosse un confronto diretto fra me e Basothry la mia intenzione era quella di non insultarlo né di offendere in nessun modo un uomo del suo calibro davanti ad una platea nazionale quindi magari noterete che mi mordo costantemente la lingua per evitare di aggredire e io ho visto quello che è successo ha detto mezzogne al pubblico americano è stato molto frustrante